1-0 il big match tra Yado Denag e Scandal Akhe Akhe che sono passati in vantaggio, era ancora così il punto di gioco alla rete di Massimo Cero adesso a bordo campo per un infortunio Vitiello che lotta su questo pallone, rimpalla su Gerry De Marco che fa carambolare la palla sui piedi di Vitiello guadagna un fallo laterale, scambia con Mascetti rientra, fallo laterale ancora in favore di Yado Denag Mascetti centralmente per Bonanno che scarica all'indietro verso il compagno giocano bene Yado Denag facendo girare il pallone Mascetti passaggio di ritorno fermato da Michele Iorio che può partire in contropiede 3-2 Michele Iorio supera un avversario, scarica verso il fratello, il tiro la parata di Borghetti che guadagna anche il fondo Baratto adesso al lancio lungo, lotta Vitiello col pallone, la colpisce di testa evita l'uscita, il cross centralmente non può arrivarci Ferraro ancora quindi Baratto centralmente per Mascetti passaggio laterale forse un po' corto lottano qui Ferraro e il difensore di Yado Denag con Mascetti che riguadagna palla passaggio di Ferruccio intercettato da Michele Iorio, c'è forse un fallo, si prosegue Baratto dietro verso, attenzione stava per combinarla adesso rossa Baratto che nel tentativo di rinviare ci mette un po' troppo tempo calambola la palla sui piedi di Michele Iorio e la palla esce sul fondo Mascetti adesso si trascina il pallone in fallo laterale Iorio, Iorio ancora allarga verso Ferraro la botta e il gol di Simone Ferraro il raddoppio quindi degli Ache il diagonale micidiale di Simone Ferraro 2-0 quindi per gli scandali Ache di capitano Danilo Predomo che prima ci ha mostrato il suo deretano Danilo adesso qui si arravoglia su questo pallone e lo spinge in calcio d'angolo sul tiro di buon anno direttamente dalla battuta Geri De Marco, calcio d'angolo centralmente verso Mascetti fondo, fondo, fondo c'è fondo per il direttore di Galo ovviamente era tutto sbagliato Prodomo verso Vitiello seguiamo quest'ultima azione Vitiello pallonetto scucchiaiato verso Iorio non ci può arrivare fondo per Iado de Nag Baratto ancora qui a combinarla grossa ancora Baratto per Mascetti dribbling rischioso è il limite della sua area di rigore il passaggio verso intercettato adesso da Peluso per Vitiello facerà il pallone in scandal Iorio ancora a Peluso visce un fallo, si prosegue per la norma del vantaggio Iorio largo verso Ferraro ci impalla la testa di Trinchillo ci impalla la visuale Iorio al tiro la parata di Baratto chiudiamo qui il nostro collegamento Siamo con Michele Iorio il migliore in campo della sfida degli scandali a K contro Iado de Nag finita 5 a 0 Michele cosa ci puoi dire di questa partita? Oggi è una prima partita, abbiamo giocato come al solito scambi veloci, grande tanche oggi tripletta beh grande tanche tanche a destra e sinistra hai segnato quando viva ora erano forti, erano tutti bravi però abbiamo vinto penso tatticamente in questa partita giocando bene al pallone in intensità siamo chiusi i ripartiti come è il nostro gioco e penso abbiamo meritato pure c'è un tuo compagnino di squadra che vuole fare una cosa? Sì allora Michele qual è il tuo segreto per queste prestazioni così continue? l'unico segreto è un compagno un compagno con l'intesa perfetta Ferraro è comunque bravo al di là di questo sono fortissimo deve essere bravo e bravo deve essere bravo e bravo deve essere bravo e bravo questo Ferraro ti sento capitano della squadra perfetto grazie mille ciao